un buongiorno a tutti gli utenti e benvenuti al consueto appuntamento con Piana Stampa dalla segna stampa di inquieto notizie oggi giovedì 13 giugno cominciamo sfogliando le pagine di Gazzetta del Sud che sul caso Cisterna titola Silipo nega mai ricevuto pressioni l'ex vice dirigente della mobile regina rompe il silenzio e racconta le indagini svolte sulle dichiarazioni del nano né magistrati né altri mi hanno condizionato nello svolgimento del mio lavoro in alto porto di giugatauro ridotte le imposte per l'ancoraggio il porto di giugno diventa più accessibile scrive Gazzetta Rosarno gli affari milanesi dei Bellocco 7 condanne e si tratta dell'operazione Blue Call andiamo all'interno ad approfondire queste prime notizie lo facciamo a pagina 20 porto tasse d'ancoraggio ancora più leggere lo ha deciso il comitato direttivo i fondi gravano interamente sul bilancio dell'autorità portale il Bellocco e l'affare del call center 7 le condanne Rosarno a Milano la sentenza del gruppo Salemme per gli imputati che avevano scelto il trito abbreviato e andiamo alla sezione riguardanti il nostro territorio a pagina 33 consigliere multato ma Sant'Antonio è salvo Rosarno un intrigo burocratico ha animato la preparazione della serata di inaugurazione che si terrà stasera alle 20 della statua della villetta di via Maria Zita un dirigente del comune ha verificato le regolarità dei lavori la sanzione è stata pagata dopo una colletta carcere di Laureana domani vertice con il ministro e a palmi viola gli adessi domiciliari e finisce in prigione provvedimento della corte d'appello fondato sulle indagini della polizia il soggetto in questione è Antonio Romola giffone matrimonio che suggella rapporto amorevole la signora non si a tapavia scrive alla gazzetta e spiega le sue ragioni per rinnova nelle casse comunali 2,5 milioni di euro destinati ai creditori il decreto sblocca pagamenti San Ferdinando rifiuti e servizi tributo in tre rate Rosarno saranno assegnate cinque borse di studio nell'ambito del premio la città del sole due saranno intitolate al preside nasso palmi donna minacciata per un terreno tentata estorsione due gli arresti i carabinieri avrebbero fatto luce sulle violente pressioni subite dalla proprietaria in carcere un uomo di santo femme da spromonte e il complice di san procopio piano strutturale palmi si avvicina un traguardo storico oggi l'importante consiglio comunale e a polistina percorso antimafia gli studenti del renda in prima fila giocatauro farmagia territoriale la cgl dice no alla chiusura è sempre giocatauro nuove aiole spazi verdi curati giocatauro esalta il decoro urbano il comune annuncia la svolta interventi al centro e sul lungomare cittanova via libera la realizzazione degli alloggi popolari polemiche sui tributi confronto serrato in aula sulla tares la tassa su rifiuti e servizi botta e risposta tra il sindaco e l'opposizione cittanova vacanza per ragazzi al polo della legalità è sempre cittanova cortometraggio pirandello drac passiamo alle pagine del quotidiano della calabria titolo principale dedicato all'unione europea l'unione europea taglia tagli ai fondi poi ci ripensa l'assessore mancino spiega al quotidiano luce e ombre del fes giocatauro resta al padone conosciuto il lavoro della regione scongiurato il disimpegno per 500 milioni e andiamo a leggere esattamente in cosa è interessata giocatauro in questa vicenda e lo scopriamo dall'articolo di abbiamo qualche problema a caricare la pagina giocatauro addio al gateway è questo il titolo dell'articolo scritto da michele albanese che parla appunto delle decisioni assunte da rete ferroviaria italiana la società delle ferrovie dello stato non si risolve il problema relativo alla visualizzazione per cui proviamo ad andare avanti pagine della piana del quotidiano della calabria siamo a rosarno e si parla del nuovo ingresso in giunta relativa appunto all'ingresso del consigliere italiano vediamo se siamo riusciti a risolvere i nostri problemi sì ce l'abbiamo fatta italiano in giunta a rosarno la scelta potrebbe essere comunicata oggi durante una riunione dei vendoliani il consigliere comunale del pd gradito sinistra ecologia e libertà per l'ingresso nell'esecutivo del sindaco tripodi mal di pancia tra le forze indipendenti di centro-sinistra città nuova rateizza il pagamento della tarso ma nell'aula consigliare si alzano le proteste dei consiglieri d'opposizione e le critiche della maggioranza santo e ofemia volevano la soterra a tutti i costi fermati per tentata estorsione in due finiscono in manette su richiesta della procura di palmi viola ripetutamente ieri essi domiciliari arrestato dalla polizia romola era detenuto nella sua casa di palmi longo da cancellieri per il daga il consigliere provinciale venerdì pomeriggio in vista al ministero della giustizia al centro dell'incontro il protrarsi della chiusura della casa di detenzione comune nel segno dell'unione europea presentati i programmi leonardo e gioventù in azione a santo femme da spromonte il comune parteciperà a due progetti riservati ai ragazzi a rosarno secondo raduno per la mitica vespa della piaggio rosarno a due ruote la nuova marcia longa dei cinque ponti è d'arrenda sulla nave della legalità una delegazione di studenti ha partecipato alla manifestazione era questa l'ultima notizia di oggi ci scusiamo per alcuni problemi tecnici che abbiamo registrato durante questa edizione piena stampa torno domattina alle 8.30 come sempre subito dopo il caffè a voi tutti da Lugero di No l'augurio di una buona giornata